Un incontro con i capi gruppo in consiglio regionale per sbloccare l'impasse che si sta creando nei rapporti tra il mondo agricolo e l'aggiunta regionale con la quale finora non c'è stato nessun confronto sui temi chiave dell'agricoltura sarda e quanto hanno chiesto le associazioni agricole riunite in Agri Insieme Sardegna, Confagricoltura, CIA, Copagri, Lega Cop, AGC, Conf Cooperative che stamattina hanno tenuto a Cagliari una conferenza stampa. Queste le parole di Luca Sanna, coordinatore di Agri Insieme. Vorremmo fare il punto del comparto con la parte politica, cosa che purtroppo non sta avvenendo. Questo oggi è il tema principale per il quale abbiamo deciso di proporci alla stampa e di chiedere l'incontro con i capi gruppo delle forze politiche presenti in consiglio regionale. Abbiamo grosse difficoltà a dialogare con la parte politica, quindi con l'aggiunta, con il presidente Solinas tra il quale abbiamo inviato più di una richiesta di incontro e ci sembra fuori luogo che il presidente non abbia ancora incontrato parti politiche importanti come le rappresentanze delle organizzazioni sindacali agricole e della cooperazione che io oggi rappresento in qualità di coordinatore di Agri Insieme. Naturalmente è davanti agli occhi di tutti che la situazione del Covid ha creato scompiglio tra le imprese e prova ne sia il fatto che sia a livello nazionale che a livello comunitario sono stati tantissimi i provvedimenti presi a favore delle imprese. Anche di questo vorremmo discutere con la parte politica, ma purtroppo il dialogo manca completamente. Questo è uno dei temi di oggi, noi abbiamo necessità assolutamente di parlare e di dialogare con la parte politica. Questo incontro non è ancora avvenuto, speriamo che questo invito di oggi serva a smuovere un pochino le acque e cercare di incontrare il presidente Solinas e la parte dell'aggiunta, non soltanto l'assessore dell'agricoltura ma anche l'assessore del lavoro e altri assessori all'ambiente e altri assessorati che oggi ci interessano quello della funzione pubblica eccetera, che ci interessano in modo particolare.